ciao miei cari compagni di merende come state tutto bene spero di sì benvenuti in questo ultimo video della settimana ma non della settimana in generale ma prima del fine settimana dove entreremo in clima partita dove ci sarà l'ennesima partita di serie a da andare a disputare giocheremo contro il sassuolo non sto neanche a dirvelo ovviamente è importantissima questa partita perché dovremo rimanere in scia con quanto di buono fatto nella partita col milan e se vogliamo anche nella partita con l'udinese e cercare di dare un indirizzo positivo a questa stagione che potrebbe decolare che deve decollare adesso perché se non decolla adesso diventa un po un casino prima di cominciare one football qui sotto in descrizione scaricatelo 3 2 1 fatto e te lo consiglio te lo consiglio perché iniziano a esserci delle notizie di mercato so che non sembrano delle notizioni ma possiamo ragionare su su tutto quello che sta accadendo quindi one football qui sotto in descrizione in preparazione al sassuolo e in preparazione al calcio mercato allora ieri è successo qualcosa ieri successo qualcosa è passato un po inosservato per me è stato un grande sospiro di sollievo un enorme sospiro di sollievo fabio quagliarella su instagram come un post indirizzato ai tifosi della sampdoria ha fatto capire che l'offerta della juventus c'è stata è stata concreta ma lui rifiuta ma grazie ci sono delle cose che vagano di più dei soldi delle offerte voglio rimanere dove il mio cuore batte vuole rimanere a genova io sono contentissimo che abbia fatto questa scelta che abbia preso questa decisione lo dico da assoluto fan di quagliarella negli anni l'ho detto più volte su questo canale youtube sono veramente un fan di quagliarella però pensare che la juventus debba andare a comprare fabio quagliarella a gennaio in questa dimensione di juventus e soprattutto dopo una stagione che era stata indirizzata al cerchiamo di svecchiare perché così non va bene sarei rimasto abbastanza male con tutto rispetto per quagliarella per la sua carriera per il giocatore per la persona che ha dato tanto ai colori bianconeri io ho adorato quagliarella alla juventus ma in questo momento direi che non è proprio il momento di andare a prendere un giocatore come quagliarella qui sotto in descrizione c'è il link del video che ho fatto per il quarto uomo dove andavo ad analizzare quelli che erano i nomi dei calciatori vicini alla juventus come eventuale quarta punta ve lo lascio se volete approfondire quagliarella era il primo giocatore di cui parlavo perché facevo la lista e dicevo in ordine quello che mi sarebbe piaciuto di meno e quello che mi sarebbe piaciuto di più quindi quagliarella era il primo non cambio la mia idea anzi sono soddisfatto e sono sollevato da questa cosa però questo post di quagliarella ci può far pensare ci può far comprendere che effettivamente c'è stata una chiacchierata tra le parti effettivamente paratici ha detto a quagliarella sai fabio che ne dici vuoi essere tu quindi magari dando anche una preferenza a quagliarella no dicendo sì sei il nostro uomo quindi perché se no fare un post del genere a parte quagliarella che non dovrebbe aver giocato nemmeno con l'inter e quindi si chiacchierava di un quagliarella molto vicino alla juve tanto quagliarella chiedeva diciotto mesi di contratto lui ve ne offriva solo sei per questo discorso di abbiamo svecchiato la rosa che facciamo facciamo un anno e mezzo di contratto a un ragazzo che fa 40 anni non ci sta c'è linee guida societarie che vanno proprio in tutt'altra direzione se vogliamo pure livello si è parlato di graziano pellè che è svincolato e ve lo dico proprio sinceramente mettendovi il cuore qua guardate qui c'è il mio cuore io temo io temo sono preoccupatissimo da questa cosa perché temo ho questo sentore me lo sento temo che sarà graziano pellè eventualmente questo quarto attaccante ieri un meneco mi diceva non sarà d'aglastico costa che sia svincolato io intanto non credo perché penso che sia un profilo molto distante da quello che vuole la juve a livello caratteriale umano e poi da quanto ho capito lui era escesso per tornare in brasile per problemi familiari quindi io immagino che non sia Diego Costa che sicuramente è un grandissimo attaccante dal punto di vista del livello internazionale che sicuramente farebbe bene giocatore che mi sta antipatico a livelli allucinanti però come sempre quando un giocatore arriva alla juventus io metto da parte simpatie antipatie e diventa un calciatore della juventus o un allenatore della juventus un dirigente della juventus e dovrà lavorare per fare il bene della juventus e fine ma non penso che che sarà Diego Costa l'attaccante notizia di oggi eldor shomuro shomuro dov shomuro dov lo devo leggere perché io non è che sia proprio un grande fan di shomuro dov giocatore che non ho mai visto nel sentito nominare ora leggiamoci un po di caratteristiche tecniche è un metro e novanta per 76 chili nato il 29 giugno del 1995 attaccante del genoa e della nazionale usbeca beh col genoa 10 presenze e due gol in serie a io ripeto nella mia ignoranza non seguendo le partite del genoa non avendolo al fantacalcio non lo conosco non lo conosco però capisco che andiamo in quella direzione di un certo tipo di giocatore alto con una caratteristica imponente sotto il punto del vista punto di vista fisico questo caso giovane e si dice che potrebbe arrivare a zero la juventus per sei mesi ora sarebbe magari anche una buona alternativa rispetto ai vari pellè iorente quagliarella tutti i nomi pavoletti di cui abbiamo parlato in precedenza poiché giovane però siamo sempre lì la juventus cosa sta cercando ragazzi cioè mettiamoci facciamo questa chiacchierata proprio tra me e voi la juventus cosa sta cercando uno tanto per perché se uno tanto per allora va bene quagliarella va bene pellè va bene iorente va bene zazza va bene pavoletti va bene chi volete va bene show murudov se uno tanto per che dici deve farmi sei mesi poi chi si è visto si è visto torna a casa sua perché non dimentichiamoci che milica è in scadenza milica adesso può firmare con chi vuole e milica aveva l'accordo con la juve c'era solo un piccolo problemino il napoli non voleva far andare via quindi se mi dite sei mesi il primo tizio che passa o ci sono io se volete juventus mi tessero perderò qualche chilo arrivo faccio come pinsoglio in attacco ma vengo tranquillamente se uno a caso che tanto non vi serve arrivo prendete chi volete perché dici magari dopo prendo milica se deve essere un giocatore da inserire in un organico che possa essere anche un giocatore importante che possa giocare determinate partite allora ecco che diego cost assume dei connotati giusti come trattativa ecco che lo stesso girù può essere un nome qualcuno mi dice e manzukic certo potremmo metterci anche manzukic ma io credo che manzukic non possa tornare alla juventus per un discorso legato al trattamento che ha ricevuto l'anno scorso l'anno scorso abbiamo fatto di tutto per cercare di smollarlo messo fuori rosa non gioca più via vattene via zero recessione contrattuale dopo un anno ti prego manzukic torna perché ci fai comodo non si fa così si fa così e credo che giustamente manzukic non voglia tornare alla juve anche per questo per il modo in cui è stato trattato e probabilmente non se lo meritava neppure dopo tutto quello che ha fatto per la juve quindi direi di no ma solo per questo è ovvio che se cerchiamo un giocatore che non gioca mai mazukic può essere anche lì mazukic che non gioca mai glielo dite voi io non glielo dico io giuro che non glielo dico a manzukic per non giocare proprio non se ne parla quindi non credo che possa essere il profilo giusto vedremo io sono un po titubante con questa cosa della quarta punta perché vedo che ci stiamo concentrando tanto su questa cosa qua sul mercato stiamo perdendo un po di vista gli altri obiettivi per dire personalmente dietro secondo me siamo un po tirati o anche sull'esterno sinistro abbiamo visto l'altro giorno senza alexandro senza quadrado ci abbiamo messo fra botta che per l'amore di dio tanto bene a gianluca fra botta però gianluca fra botta non è un calciatore di serie a è sicuramente non è nemmeno un calciatore da livello juve è un calciatore che si sta formando è un calciatore che iniziava la stagione doveva essere in serie c trovato addirittura titolare nel big match scudetto con la juve nell'esordio con la juve di pirlo però ricordiamocelo è un giocatore che non ha mai giocato in serie a e che quindi avrà bisogno del suo tempo per formarsi poi se vuole rimanere la juve e quello può essere giocatore del futuro ben venga io sono pronto ad accoglierlo ma qualcosina lì si potrebbe fare si potrebbe fare qualcosina dietro perché chiellini non lo considero neanche più un giocatore di livello da essere un titolare fisso in questa squadra ma non per capacità mancanti per via del suo stato fisico lo sappiamo bene a centrocampo manca della qualità ce l'abbiamo visto anche l'altra sera clamorosamente col milan centrocampo manca un giocatore veramente forte a centrocampo una mezzala veramente forte a centrocampo insieme a meccenni che secondo me in questo momento è l'unico che deve giocare sempre gli altri poi a rotazione a seconda dato che arthur anche qua perché non gioca praticamente sempre non si sa mckenny l'abbiamo battezzato è il titolare boom questo ad oggi mckenny è l'unico veramente che dice deve giocare lui un'altra mezzala forte serve la quarta punta si può servire senza morata però abbiamo visto che comunque di bala queste ultime due apparizioni non ha fatto male quindi ci stiamo concentrando tanto su queste cose qua reynolds è un giocatore che la juventus ha bloccato farà sei mesi al benevento a quanto pare poi ne parleremo a giugno arriverà a giugno la juve per il vero punto focale se volevamo migliorare a gennaio questa squadra dobbiamo prendere un centrocampista forte non la quarta punta non luca pellegrini non il difensore centrale tipo romero che è già nostro e farò tornare non sono questi i colpi che migliorano la juventus forse neppure locatelli o depol sono colpi che migliorano la juventus in maniera grandiosa e in corso c'era sempre quell'unica possibilità cioè paul pogba che sempre detto è impossibile ma non è impossibile ma è impossibile quindi quello che dobbiamo aspettarci a questo calcio mercato è qualche ritocchino così non vogliamo alto ecco il mio consiglio è questo cerchiamo di mantenere basse le aspettative e di dire facciamo con la squadra che abbiamo poi a giugno ci guardiamo perché soldini non ce ne sono servono operazioni intelligenti come quelle di chiesa di meccani di morata che sono dei poi meno male che che sono saltate fuori se poi questo eldor shomurudov prendiamo a zero per sei mesi facciamo firmare un bel contrattino a milic che diventa nostro e anche shomurudov alla fine dell'anno ci fa sei mesi fatti bene poi ne parliamo però non mi aspetto niente di che è come vi dicevo temo 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 ce l'ho in testa welcome to juventus grazie a pelle con quei passettini tutti lì così con la razza però